Ogni stagione ci porta profumi, colori, pensieri. Ogni stagione ha un timbro, un battito, un carattere. Seguendo la stagionalità, il sapore e il gusto di palati esperti, vorrei proporvi qualche combinazione. Petali, foglie e fiori, bacche, radici, sono espressioni di queste energie che possiamo scegliere di portarci dentro. Grazie a tutti.